Ciao, benvenuto o benvenuta a questo nuovo video sul nostro canale di YouTube. Quanto del tuo patrimonio vuoi proteggere con il migliore oro del mondo? Sai che noi di Helior, del Banco Metalli Golden Age, autorizzati dalla Banca d'Italia, ti portiamo l'oro svizzero raffinato in Svizzera con i nostri Gold Advisor che tu potrai utilizzare per poter fare una pianificazione opportuna del tuo portafoglio e proteggerlo nel migliore dei modi. Scegli tu la percentuale. Quanta percentuale del tuo portafoglio vuoi mettere in protezione con questo? Con il migliore oro che tu puoi avere oggi a disposizione, l'oro 999.9 Good Delivery che solo i Gold Advisor, i nostri professionisti autorizzati da Helior, ti possono portare a casa. E allora oggi ti vogliamo parlare, come diceva anche JP Morgan, della differenza che ci può essere tra la valuta che tu utilizzi quotidianamente, che probabilmente se vedi il video in italiano appunto è il tuo euro e magari l'oro, perché JP Morgan devi sapere nella fine dell'Ottocento e chi è JP Morgan probabilmente non te lo devo insegnare io, perché è colui che ha creato la banca più importante al mondo, che porta il suo nome e che ancora sul finire dell'Ottocento amava a dire signori guardate che l'unica vera sola moneta è l'oro, tutto il resto è credito. All'epoca lui si riferiva alla valuta ovviamente del dollaro, ma potete trasporre questa sua affermazione con qualsiasi altra valuta, euro, franco, piuttosto che yen. Perché? Perché effettivamente se voi andate a vedere i grafici, andate a vedere gli andamenti delle valute, le definiamo valute fiat, come si dice tecnicamente, rispetto alla valuta oro e trovate delle enormi differenze. E dove si va a sostanziare il fulcro della differenza tra una valuta fiat e una valuta oro? Nella legge tra la domanda e l'offerta, quindi nella quantità offerta al mercato di quella bene, di quella merce lì, in questo caso di questa valuta, e nella domanda dall'altra parte che va a incrociarsi rispetto all'offerta. Perché le valute fiat, le valute quindi il dollaro, l'euro, piuttosto che lo ieno, il franco, che problematica hanno da un po' di anni a questa parte? Vengono immesse sul mercato in maniera indiscriminata. Quindi, soprattutto per sorreggere il mercato nei momenti di crisi, i governatori delle banche centrali, perché ormai la politica economica a livello mondiale viene dettata dai governatori delle banche centrali, questa è l'evidenza. Non esistono più i capi dei governi, i capi di Stato che fanno ovviamente le politiche monetarie, ma incidono molto di più i governatori delle banche centrali, che una volta che alzano, abbassano i tassi, una volta che decidono di immettere sul mercato dei quantitative easing e quindi queste grandi emissioni di liquidità, determinano poi andamenti sul mercato in maniera rilevante. Allora che cosa è successo nel corso degli ultimi anni, soprattutto da 30 anni a questa parte, da quando la finanza ha scoperto il doping, cioè la possibilità di poter vincere facile con l'introduzione dei derivati, che i governatori delle banche centrali hanno cercato di sorreggere questo artefizio finanziario, che ci pone un'evidenza enorme, cioè la discrepanza tra l'economia reale che va da una parte e la finanza che va fuori controllo da tutta un'altra parte. Ecco, per sorreggere questo castello di finzione, come lo amo definire io, hanno buttato sul mercato e continuano a buttare trilioni e trilioni di liquidità e quindi in missione scelerata di offerta, che dall'altra parte non è supportata da una domanda sottostante che sorregga quella pari offerta e quindi voi mi insegnate che nella legge tra la domanda e l'offerta che forma il prezzo e quindi il valore di un bene, se un'offerta smisurata che non è dall'altra parte supportata da una domanda sottostante che sorregga quell'offerta smisurata, quel bene, quel valore, quella valuta in questo caso si svaluta e quindi perde di potere di acquisto. Ecco perché il dollaro, l'euro, lo yen, il franco, qualsiasi valuta scende giù dalle scale di cantina. Se voi andate a guardare i grafici e l'euro è la valuta più giovane di tutte quelle che abbiamo citato prima, comunque ha avuto un andamento nel corso degli ultimi 20 anni, ma ve ne accorgete anche voi quando andate a fare la spesa signori, perché i vostri stipendi sono ancora in euro e sono più o meno rispetto a 20 anni fa poco cambiati, ma ciò che vi rimane in tasca è molto cambiato perché è ciò che spendete molto di più, cioè servono molti più soldi per andare a comprare la stessa cosa, lo stesso carrello della spesa che compravate 20 anni fa, 24 anni fa quando poi si è introdotto l'euro nel mercato. E quindi perché l'oro invece dall'altra parte si comporta in maniera diversa? Perché è un bene scarso, la cui quantità è limitata, 196.300 tonnellate sono tutto l'oro estratto che si può estrarre nel mondo, ad oggi mancano ancora 25.000 tonnellate, poi si finirà l'estrazione di tutto l'oro che è stato ancora individuato sulla crosta terrestre e tutto l'oro del mondo oggi può essere contenuto in un cubo di 21 metri per lato. Perché? Perché il peso specifico di questo metallo così straordinario è di 69 volte l'acqua e quindi tutto l'oro del mondo, 196.300 tonnellate, può stare in un cubo che potete mettere in una piazza della vostra città ed è tutto l'oro che esiste nel mondo. Capite che se c'è un'offerta limitata, perché è un'offerta finita, limitata, e invece dall'altra parte c'è una domanda che continua ad aumentare di anno in anno, perché governi, banche centrali, privati continuano a richiedere a gran voce scorte di oro, capite che il prezzo di quel bene, il valore di quel bene aumenterà e aumenterà sempre. Questa è la legge del mercato, incrocio tra domanda e offerta. Capite che quindi se io devo paragonare l'oro ad una valuta, perché questo è quello che ci diceva anche JP Morgan, l'oro è la unica e vera sola moneta, capite che non c'è confronto rispetto a qualsiasi altra moneta. Se vi rimane qualche cosa, entrate meno uscite, piuttosto che lasciarli lì in euro, andatelo a convertire in oro. Andatevi a prendere la svalutazione che l'euro ha avuto nel corso degli ultimi 24 anni, dal 2000 ad oggi, andatevi a prendere il grafico dal 2000 ad oggi di che cosa ha fatto l'oro invece nello stesso periodo di riferimento. Troverete un grafico che da una parte va giù dalle scale di cantina, cioè il valore dell'euro che si è depreciato costantemente in 24 anni, dall'altra parte il valore dell'oro che stava a meno di 10 euro al grammo il primo giornale del 2000 e oggi sta a oltre 70 euro al grammo. Stiamo a parlare di un per 7. Capite che non c'è confronto se JP Morgan diceva che l'oro era l'unica e vera sola moneta, aveva ragione perché effettivamente questa è la vera e unica riserva di valore che voi potete avere in portafoglio che vi serve per proteggere e per tutelare il vostro patrimonio. È stato un piacere stare in tua compagnia anche in questo video, se ti è piaciuto il contenuto metti un like, iscriviti al canale, attiva ovviamente la notifica per non perderti tutti i nostri aggiornamenti e dopodiché info-aerior.it la nostra email se ci vuoi iscrivere, il link in descrizione ti darà la possibilità di invece caricare i tuoi dati molto più semplicemente per essere messo in contatto con uno dei nostri oltre 250 gold advisor e se questo contenuto ti è stato passato da uno dei nostri gold advisor rivolgiti a lui con fiducia perché sono professionisti altamente preparati per fornirti le migliori soluzioni per le tue esigenze di protezione del patrimonio. Ciao e alla prossima!